Luca Panunzio, nona edizione di Pescara Abruzzo Wine, una manifestazione che ormai sta diventando un appuntamento fisso per gli amanti del buon vino ma anche della buona cucina abruzzese. Il nostro è un premio ideato appunto nove anni fa con l'organizzazione dell'associazione di Diana Sommelier per premiare le eccellenze dei vini e dell'onologia abruzzese. Quindi abbiamo diviso i vini in categorie, migliori bianchi, migliori rosati, migliori rossi, migliori azienda e poi all'altra di questo ci sono i premi speciali che noi come commissione diamo a tutti quelli che di fuori Abruzzo si sono messi in luce con particolari sensibilità alla qualità. Quest'anno abbiamo la fortuna di avere Mauro Lunelli che è il patrone di azienda Ferrari, Giulio Ferrari quindi miglior spumante italiano e poi abbiamo l'autentica miglior vino per la guida AIS, insomma un parterre importante. I migliori saranno sabato a Pescara, noi alle nostre spalle abbiamo dei vini, vini abruzzesi che rappresentano Luca comunque una eccellenza della nostra regione. Assolutamente, l'Abruzzo Enologico è in forte ascesa, abbiamo dei vini che se ne abbattono a livello nazionale, a livello di qualità, di immagine e di prestigio. Molte guide internazionali, non solo quella abruzzese o quella della situazione della sommelier dove abbiamo premiato 12 eccellenze italiane ma anche le guide internazionali stanno sempre più vedendo con occhio importante le novità abruzzesi.